Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Matteo D'Amico, da oggi ho l'onore e il piacere di presiedere quale referente è l'organismo della composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'ordine degli avvocati di Bari. È un incarico che assumo con assoluto piacere e spirito di servizio nella speranza di poter rendere questo organismo ancora più performante di quello che è stato fino ad oggi e di poter lasciare una traccia positiva nel mio passaggio. Gli obiettivi che sono stati richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono quello della trasparenza e dell'efficacia e spero di perseguirli e invito anche tutti i gestori a tenersi a questa volontà da parte del Consiglio dell'Ordine. Spero di potervi aiutare perché c'è la disponibilità massima da parte dell'organismo nei confronti sia dei colleghi advisor che nei confronti dei gestori per rendere ancora più efficiente questo organismo e arrivare a perseguire quelli che sono le nostre finalità e quindi di aiuto al debitore nella soluzione della crisi.